ciao a tutti benvenuti sul nostro canale youtube io sono nicola manzari lui è riccardo riccardo che è il mio piccolo grande collaboratore questa è una pasticceria che ormai opera in territorio san marinese da 35 anni e abbiamo deciso di mostrarvi o comunque di farvi partecipe delle nostre creazioni tant'è che iscrivendosi alla alla pagina di youtube potreste vedere tutti i lavori che noi facciamo faremo delle cosine insieme interessanti ma molto molto semplici alla portata di tutte le massage il nostro non vuole avere nessun tipo di ambizione come progetto è giusto per quelle casalinche che magari hanno qualche problema faremo per voi delle ricette semplicissime fare quando dico faremo intendo sempre io e riccardo detto questo ricordatevi che alla fine del filmato di spingere il pulsante grazie a tutti e arrivederci a presto fai ciao 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 ciao